Hola Automaticers e futuri Automaticers, oggi parliamo di 11 strumenti che sono uno spettacolo perché sono gli strumenti che io mi porto nel cuore, nel corazon, perché parliamo delle alternative di Zapier tranquillo, tranquilla che ti capirai tutto, tutto, fra un secondo ti spiegheremo tutto nei dettagli con un amico di quelli carissimi, prima di iniziare permettimi come sempre di darti il mio personale benvenuto in Automaticing, mi chiamo Stefano e lo scopo di questo canale è proprio aiutarti a vendere di più senza stress, non c'è bisogno di stressarsi, grazie e attraverso all'automazione di business e oggi proprio di automazione parliamo, se non l'hai ancora fatto io ti dico ai 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 oggi rimaniamo nel messicano come te mandante, iscriviti al canale, mettendo un bel, attivando un bel boom su quella campanellina che così ogni volta che pubblichiamo una nuova strategia un nuovo strumento, una nuova automazione, una nuova figata, insomma robe bellissime YouTube ti manderà una notifica e tu potrai anche tu intraprendere questo viaggio nel diventare un'Automaticer ovvero un professionista, una professionista in generale, una persona che ha un bel equilibrio quasi quasi proprio bello livellato tra la vita professionale e la vita privata perché come diciamo sempre, sì, se è il tuo primo video non lo sai, ma se è il tuo secondo già lo sai qui nessuno e proprio 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 nessuno ci tiene ad essere il più ricco o la più ricca del cimitero io vedo dietro le quinte che scalpita anche questa volta il carissimo Bernardo ciao caro sto scalpitando, ciao Stefano, buongiorno come stai? tutto bene? bene, 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 non vedo l'ora perché questi in realtà ho un bel ricordo di una cosetta adesso lo raccontiamo ai nostri amici che ci seguono di queste undici alternative a Zapier e partiamo dalla classica scaletta primo punto, Bernardo aiutaci a capire un pochettino cosa fa, che cosa serve perché Zapier, oggi ho questo spagnolo in me il secondo, le alternative, vediamole tutte e undici magari ti chiederò di concentrarci un pochettino su quelle un po' più importanti quelle un po' più diverse tra di loro e soprattutto ti chiederò e magari ci facciamo dei consigli finali su cosa andiamo a automatizzare cosa consigliamo agli amici e alle amiche automatiche di automatizzare ma partiamo dall'inizio cosa fa e a cosa serve Zapier Zapier è un tool di automation nato come marketing automation, quindi automazione un argomento che conosci bene e che anche gli iscritti al canale conoscono bene cioè mette in collegamento due o più applicazioni cioè se succede qualcosa in un'applicazione io faccio in modo che questa azione, che questo attivatore scateni una reazione in un'altra applicazione è bello, in un articolo l'avevamo definito il coltellino svizzero di un'azienda perché per esempio, già iniziamo con qualche esempio guarda perché è la cosa un po' più facile magari tu sai più o meno che cosa fa Zapier ma l'unica domanda che non sai o la domanda ricorrente è sì ma io poi nel pratico come lo utilizzo ora Bernardo ci farà vedere tutte le alternative ci andrà nel dettaglio una specie di tutorial delle principali ma per esempio puoi fare in modo che ogni volta che c'è un nuovo articolo sul tuo blog in automatico venga pubblicato su Facebook o su Pinterest o per esempio puoi andare, per esempio oggi con Bernardo abbiamo impostato una bella automazione che ogni volta che un articolo finisce su tool per startup e viene pubblicato finisce in automatico sul Pinterest di Automaticking ok? Automazione fresca fresca appena fatta oppure puoi gestire per esempio dei flussi ogni volta che una persona si crea una fattura nel tuo programma preferito di fatturazione gli viene mandato una mail specifica o una sequenza ci sono una serie di attività tu devi pensare dove è che perdi tempo? ecco, quello è il posto specifico dove Zapier e le 11 alternative che ti presentiamo oggi vanno al bacio Bernardo io ti porto direttamente sul tuo schermo perché vedo una faccetta conosciuta vedi un logo conosciuto che è quello di tool per startup è una faccetta conosciuta sì, abbastanza conosciuta è la tua un articolo che tu hai scritto per tool per startup che però se mi permetti lo vorrei spiegare io in realtà il titolo è leggermente diverso le migliori alternative è EFTTT per rendere automatico il tuo business quindi spoileriamo la prima delle alternative a Zapier che è EFTTT che è uno forse dei tool più famosi di questo tipo di attività andiamo a vederle velocemente abbiamo spiegato più o meno che cosa fa Zapier lo stesso si può dire degli altri tool che fanno più o meno la stessa cosa quindi mettono in collegamento due o più applicazioni per creare delle automazioni e quindi risparmiare tempo risparmiare budget risparmiarci un po' di noia su quelle attività ripetitive il primo EFTTT il più forse famoso il più consumer di tutti ogni articolo scusami Bernardo ha i pro i contro a chi è adatto e soprattutto prezzi e condizioni del momento questo che cosa ti voglio dire noi su queste cose qui non ci entriamo in descrizione ti metto l'articolo che ho preparato per tool per startup che è un blog bellissimo che parla di tool per startup ma in generale per piccole e medie imprese per liberi professionisti quindi ti consiglio in generale a prescindere di dargli un occhio ecco non andiamo a ripetere le stesse cose ti andiamo a dare delle esperienze delle alternative che sono più consone ad un video sennò che ti faceva fare l'articolo e pure il video e due robe uguali non ha senso quindi per ognuno di questi strumenti trovi pro, contro, adatto a e prezzi e condizioni il primo la prima alternativa a Zapier è IFTTT poi? poi c'è naturalmente Zapier certo e qui forse vedete qualcosa riconoscete qualcosa quindi vi farò aspetta 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 ti faccio vedere faccio apparire la grafica perché in descrizione se volete imparare a utilizzare bene o meglio Zapier ho un bellissimo tutorial specifico in questo canale poi abbiamo Automate.io che è un altro più dedicato al B2B esattamente poi abbiamo PandaFlow poi abbiamo Integrately che è un tool abbastanza recente che è uscito da da poco che ha deciso di entrare in questo mercato dicevamo i pro e i contro è adatto a servono sono molto importanti per questo tipo di diciamo raccolte di tool perché essendo molto simili tra loro non è automatico per l'appunto che si riesca subito a capire quali sono le specifiche e le specificità di ognuno di questi strumenti questo pannello ci aiuta a capire se fa per noi se fa per le nostre esigenze se no che ci sto a fare io scusami Bernardo se fosse tutto quanto che ci sto a fare io e ci sto perché la aiutiamo apposta Integromat un altro leggermente più complesso ma che dà anche grandi soddisfazioni con una con una con uno studio approfondito o con dei tutorial anche su questo scusami 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 anche su questo a volte ti sento in un piccolo ritardo anche su questo ho un bel video fatto con Luciano Zambito dove facciamo una bellissima panoramica su Integromat ma permettimi di aprire una parentesi ti faccio vedere anche la grafica se non l'hai ancora fatto vai a dare un occhio su academy.automaticin.com che è l'accademia dell'automazione la grande biblioteca italiana sulle automazioni dove c'è proprio una serie di corsi dedicati dal base intermedio avanzato e addirittura un bundle un pacchetto con tutto incluso proprio su Integromat aperta e chiusa parentesi Public Connect altra alternativa Zapier Fiona altra alternativa Zapier N8N N8N forse si pronuncia così già versione più open source diciamo Workato altra alternativa poi abbiamo Leeds Bridge e poi Parabola o Parabola che è un pochino anche questo più destinato diciamo così alle automazioni interne all'azienda quindi di business interno ok e poi abbiamo finito per adesso con questo abbiamo finito perché in totale sono 12 11 alternative a Zapier sono 11 le alternative 1 è Zapier 11 più 1 ecco bravo anche Bernardo lo sa 12 io ti chiederei allora riparisco questo concetto ci abbiamo messo un po' di tempo ci ho investito un po' di energia trovi pro contro a che è adatto e ogni singolo vantaggio di ognuno di questi corsi lo trovi nel bellissimo articolo di tool per startup che ho preparato qualche tempo fa la cosa che ti faccio ti chiedo Bernardo è ci fai vedere un pochettino dietro le quinte di queste belle paginette delle home page ci fai vedere un pochettino come funzionano magari i tuoi tool preferiti certamente cominciamo con Zapier naturalmente cominciamo con Zapier che è un software chiaramente che nel corso degli anni ha modificato leggermente la sua interfaccia mantenendo però tutto sommato questo aspetto abbastanza amichevole nonostante la prima impressione possa sembrare complesso create Zap si chiamano Zap queste automazioni clicchiamo sul tasto create Zap appunto per crearne una nuova e la piattaforma ci guida ci guida nel processo di creazione di questa automazione chiedendoci prima che applicazione vogliamo collegare qual è l'applicazione di origine della nostra automazione ce ne sono moltissime veramente tantissime provate a digitare per esempio Gmail mail oppure Active Campaign Google contact ce ne sono tantissime basta iniziare a digitare il sistema trova l'applicazione dopodiché una volta che scegliamo l'applicazione dovremmo collegare l'applicazione con Zap scegliere un evento che scatena e poi dopo se no vi levo se no vi levo il bello della scoperta se ve lo faccio vedere tutto su questo c'è un bel tutorial il concetto su cui capire che tutti in generale tutti questi dodici strumenti funzionano nello stesso motivo c'è un evento che si chiama tecnicamente trigger che fa scatenare una conseguenza quindi se succede questa cosa qui io sotto ci attacco un altro in automatico un passaggio di dati un ponte di dati che mi fa succedere questa altra cosa tutti quanti funzionano allo stesso modo tutti hanno lo stesso principio che le app Gmail e Google Sheet per esempio si devono integrare per parlare tra di loro e utilizzano Zapier questo è il concetto ma questo vale per tutte e dodici questi strumenti ce ne fai vedere un secondo? certamente certamente il secondo che vi faccio vedere è AFTTT che come vi dicevo è uno dei più famosi e addirittura è la cronica di If This Then That cioè se succede questo allora fai quello che funziona allo stesso modo create cioè creiamo un applets e la piattaforma ci guida If This quindi se questo aggiungiamo una delle tantissime applicazioni una 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 precisazione il FTTT è molto dedicato alla domotica quindi a tutte quelle applicazioni che ci possono servire non solo nel business ma anche magari nella vita di tutti i giorni per gestire illuminazione temperatura termostati in casa anche in ufficio naturalmente quindi per esempio ci possono essere delle automazioni collegate con GPS per cui tutte le volte che arrivo vicino a casa accende la luce o alza la temperatura quando quando entro o alla bassa quando esco una delle applicazioni che mi sento di una delle applets quindi delle automazioni che mi sento di consigliarvi è questa quando noi condividiamo un post di Instagram su Twitter Twitter che cosa fa? Condivide il link e non l'anteprima dell'immagine quindi noi vediamo un testo che magari è la nostra caption e poi però vediamo un link quindi non abbiamo immediatamente la visione dell'immagine anche se i social media manager più esperti ci dicono che magari non è consigliabile condividere esattamente lo stesso contenuto su più piattaforme con il FTTT se vogliamo risparmiare tempo possiamo mettere in piedi un'automazione per cui ogni nuovo post di Instagram viene condiviso su Twitter ma con una particolarità l'immagine viene vista in schermo intero quindi in anteprima quando io scorro il feed di Twitter trovo direttamente l'immagine funziona allo stesso modo mi cito il nome comincio a digitare il nome di un'applicazione mi filtra le applicazioni disponibili in questo caso Instagram e mi sottopone tutte le possibili i possibili eventi scatenanti di questa automazione ne scegliete uno e poi andate avanti a vedere come funziona il nostro tool e anche qui non vi voglio togliere la curiosità è il piacere di scoprirlo da sole sottolineo solo che IFTTT ha anche una bellissima azione applicazione da cellulare proprio che gli permette di fare una serie di cose del tipo se piove si collega col meteo con l'app del meteo se piove svegliami mezz'ora prima perché magari devo portare l'ombrello trovo più traffico ci sono tutta una serie di cosette carine che si possono fare con il cellulare con le applicazioni come diceva giustamente Bernardo di domotica in generale sia Zapier che IFTTT Zapier ha un piano gratuito IFTTT invece anche lui è per lo più gratuito ok non ha grosse complicazioni da poco hanno messo un piano a pagamento da poco esatto 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 tutte queste applicazioni qui la maggior parte meglio detto ha un piano gratuito per cominciarci a smanettare per questo diceva Bernardo sporca di le mani capisci magari attraverso l'articolo e questo video metti insieme tutti i pezzi e cerca di capire qual è la soluzione da cui partire magari uno o due si ci sporchi un po' le mani capisci un pochettino cosa fa per te poi Zapier Zip Zup in questo caso automatizza andiamo avanti questo come si chiama? questo si chiama Integrately è un software abbastanza recente che riprende esattamente la stessa struttura dei due che abbiamo visto ha un paio di caratteristiche interessanti quindi come vedete anche qui ci sono i due pulsanti che servono per collegare le applicazioni la ricerca full text delle applicazioni e come spesso succede alcune diciamo così automazioni più frequenti per cui lui si suggerisce perché quando le applicazioni collegate a questi tool sono molte si moltiplicano anche le possibilità di integrazione delle automazioni il rischio di disperdersi è alto quindi anche per questo il consiglio è quello di provare ma anche iniziare piano piano cioè cominciare con una o con due provarle vedere il risultato vedere anche i tempi di reazione vedere se il tool continua a essere solido perché questi tool hanno bisogno anche di grandi risorse per funzionare quindi certe volte può capitare per la verità molto raramente che alcune automazioni non scattino quindi bisogna cercare anche di controllare questo queste applicazioni sono moltissime si 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 freme sul pulsante si cerca un'applicazione andiamo sulla famosa gmail a questo punto quando io comincio a digitare mi filtra le applicazioni disponibili quando io seleziono vedete quante sono sono una cosa incredibile io mi emoziono Stefano quando ne vedo così tante cosa succede a chi lo dici con le automazioni abbiamo selezionato i gmail già il sistema comincia a sottopormi alcune possibili diciamo così applicazioni di automazioni su gmail è veramente bello senti ce ne abbiamo un altro su cui giocarci la carta dell'anteprima dell'anteprima di tool come stai facendo adesso ci fai vedere l'interno subito subito allora questo qui si chiama integro mat ed è forse il più business di quelli che vi voglio sottoporre oggi più business cosa vuol dire che ha le applicazioni che noi conosciamo quindi google drive gmail quindi applicazioni che vengono utilizzate anche da un punto di vista consumer ma che ha diciamo così dentro nel motore una possibilità molte più possibilità tra cui per esempio i filtri oppure la possibilità di fare catene chain no automation chain catene di automazioni anche più complesse chiaramente ad una complessità di risultato corrisponde una complessità di gestione che è forse il più tra virgolette difficile ma credo stefano che per integro mat se è difficile non ci siano grossi problemi no perché tu hai la soluzione il disco cioè metto un'altra volta in descrizione un bellissimo tutorial con luciano zambito lavoravamo con i qr con i chatbot con i sistemi di prenotazioni per ristoranti o centri estetici o cosa del genere mi ha fatto un bellissimo tutorial con esempi pratici c'è il link in descrizione ti faccio vedere e poi se vuoi approfondire anche in questo caso c'è un bellissimo corso in realtà una serie di corsi base intermedio avanzato e pacchetto per imparare a utilizzare sicuramente è un po' quello più complesso ma dipende da quello che ci devi fare perché veramente 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 uno sono strumenti potenti integro ma forse un pelino in più degli altri e un'alternativa più sempliciotta più sempliciotta PubliConnect è un tool anche questo recente quindi evidentemente il fatto che nascono dei tool recenti su questo business significa che il mercato non è saturo e che quindi ci sono anche possibilità di sviluppo di questa tipologia di software lato software house lato utente è meglio perché io ho più alternative più concorrenza i prezzi si abbassano e magari ogni tool poi prende una propria nicchia Publi sta cercando ultimamente ci sta riuscendo dico la verità di collegare moltissime applicazioni quindi sta espandendo in maniera incredibile il portafoglio di applicazioni collegabili è una nuova alternativa anche lui ha un piano gratuito limitato che vi devo dire provatelo create workflow in questo caso si chiamano workflow si dà un nome al flusso di lavoro quindi all'automazione e vedete che l'interfaccia più o meno ricorda quindi anche qui se voi ne provate uno Zapri FTTT uno di quelli che vi abbiamo detto poi troverete delle assonanze delle somiglianze tra gli altri quindi vi verrà anche più semplice provare gli altri ok non sarà tempo sarà tempo investito quello del test come lo è sempre per i tool si sceglie un'applicazione e poi si può condividere un'applicazione un passaggio di questa catena di automazione cosa interessante da dire che la maggior parte di questi strumenti non tutti prevede delle catene anche più complesse ti faccio un esempio cioè parti da un evento scatenante ad esempio una nuova pubblicazione sul blog ma puoi ad esempio andarla a pubblicare solo su Facebook solo su Instagram oppure su tutte le piattaforme perché l'evento scatenante genera più diciamo automazioni oppure ci sono delle catene per esempio vado a prendere il software per esempio l'immagine che io pubblico su Instagram la salvo in un Google Doc o scusami in un Google per esempio in un Google Doc in una cartella immagini in un Google Sheet quindi un foglio Excel online di Google e poi queste informazioni le potrò andare a riutilizzare in un secondo momento dopo 15 giorni quindi aggiungo addirittura il tempo per magari andarla a pubblicare sul social per non fare che oggi è uscito il video o oggi è uscito il post su Instagram domani esce lo stesso post scusami oggi in questo stesso momento esce il post su Instagram e non voglio che esca in automatico subito sull'altra rete sociale posso mettergli dei tempi di attesa posso mettergli dei salvataggi cioè posso creare non solo uno e due step ma posso mettere una serie di step intermedi per rendere più complessa la situazione ma anche più intelligente più efficace perché le automazioni basiche a volte sono automazioni basiche sono sciocchine ma noi possiamo eh guarda oggi che proprietà di linguaggio l'automazione basica è basica l'automazione è un po' più complessa ti dà un po' più di umanità diciamo così e quindi ti permette di giocare un pochettino meglio ma io l'ho detto io mi piace sì c'è un po' di consigli poi da dare perché ho visto che ne stai dando ne stai dando tanti e quindi guarda pure a tutto schermo vai accidenti qualche consiglio quindi partire con le con le automazioni semplici no il consiglio è un po' come quando si va a provare un nuovo tool un nuovo software facciamo un'analisi se fa bisogno è un'analisi dei processi in questo caso penso di poter utilizzare le automazioni per qualche attività del business mi faccio un workflow quindi un processo ma anche con carta e penna quindi torniamo ad analogici un attimo riflettiamoci fermiamoci un attimo con carta e penna mi disegno il flusso il processo lo provo a buttare su un'automazione magari elevando qualche passaggio testo l'automazione e poi piano piano aggiungo aggiungo automazioni ritardi filtri aggiungo caratteristiche a questa cosa così ottengo un'automazione funzionante come la volevo dei singoli passaggi di test in modo tale che posso provare le cose fino a quando se c'è qualcosa che non va non funziona e poi impariamo anche noi a gestire questi strumenti impariamo anche noi a capire quali sono poi quelle caratteristiche migliori che fanno più al caso nostro assolutamente quanta saggità quest'uomo quanta saggità io ti chiedo amico amica automatica prima dell'ultimo giolli che mi posso giocare ti sta piacendo questo video perché se ti sta piacendo questo video ti chiedo di lasciare un bel like un bel pollicione verso l'alto di modo che all'amico Bernardo e anche a me stesso ogni tanto meno meno prendo il merito mi fa piacere che facciamo contenuti che ti piacciono che ti siano utili e quindi ci aiuti a capire che questo tipo di cose ti interessano comunque che ti è piaciuto il video lascia un bel like se invece oltre il video ti interessano altre automazioni altri strumenti altre strategie altre figate bene iscriviti direttamente a questo canale io ti invito a vedere in descrizione l'articolo che ho scritto io per Tulpe Startup ma in generale di dare un occhio a Tulpe Startup e se non lo hai fatto o ti va di condividere il tuo punto di vista magari un problema che stai trovando con uno strumento hai bisogno di non lo so hai un'idea per automatizzare una cosa specifica ecco ci lasci un bel commento in descrizione qui sotto sotto al video di YouTube e noi con molto molto piacere ti risponderemo Stefano l'ultima cosa da dire è sempre andate su Tulpe Startup c'è una sezione anche dei tool in offerta dove potrete trovare tool anche come questi di automazione che abbiamo appena descritto in offerta lifetime cioè si paga una tantum un software che normalmente viene venduto in abbonamento alla selezione ci pensiamo noi la redazione di Tulpe Startup guardateveli perché ci possono essere offerte interessanti yeah sicuramente bisogna essere tempestivi sulle offerte lifetime quindi basta con questo video ti esaluto ti abbraccio come dico sempre forte dalle canarie buone automazioni vai a vedere su Tulpe Startup i nuovi lifetime ciao buone automazioni ciao ciao